L'abbiamo trovato in una beauty farm vicino al lago Balaton in Ungheria, è un consulente del Ministero dell'Economia del governo Monti, che è molto preoccupato, ma come mai non si rilassa? E' sul lago Balaton dovrebbe… Non riesco a rilassarmi perché questo spread che sale, che scende e poi Monti che mi chiama di continuo e questa economia che non va, il dollaro e la… Ma ci può fornire qualche dettaglio? E' tutta una questione di fluidi che salgono, che scendono l'economia perché è come avere a che fare con una donna, no? Ma tu non devi preoccupare, a me non c'è caso, perché comunque alla fine i problemi economici dipingono le cose, si risolvano, non c'è nessun problema, basta che tu vieni dietro a me e io sono il tuo consigliero, oppure no.